Il paraurti è la parte più delicata della macchina, vero? Eh sì, anche se lei non ha un incidente, il paraurti si deteriora rapidamente. Sì. Per esempio, in città, è frequente che durante una manovra si urti leggermente. Dunque è naturale vedere delle righe e dei graffi. È vero che un paraurti danneggiato non è molto estetico. Ma si può riparare e renderlo come nuovo? Veramente? Sì, vede, quella zona è stata visibilmente graffiata da un muro. Questa la potete riparare? Eh sì. Facilmente? Ad un buon prezzo? Sì, abbiamo un forfè per questo tipo di intervento. Ah beh. Quindi si levica, poi si ridipinge la zona scalfita e una volta riparata le scalfiture sono quasi invisibili. Ho capito. È vero che quando si vuole rivendere la sua automobile, questo è un vantaggio. Avere un esterno in buono stato è sempre una carta vincente per la rivendita. Avreste il coraggio di privare la vostra macchina di un piccolo lifting?